Ciao a tutti amici, sono io, Julia War, e oggi sono qui per fare una nuova puntare di colam. Allora ragazzi, siccome manca pochissimo a Natale, ho deciso, come ho fatto anche l'anno scorso, di aprire insieme a voi due bustine di questa Christmas Box. Quindi magari alla fine di questo video, se volete, potete andare a vedere quello dell'anno scorso, così, giusto per vedere le differenze. Allora, direi di incominciare subito, ovviamente Christmas Box ha fatto un per lui e poi una per lei. Allora, partiamo subito con la bustina per lui, visto che io sono una ragazza, partiamo da quella per ragazzi. Allora, il prezzo è 2,50, 2,50 euro, e all'interno dice che troviamo fantastiche sorprese, sono molto curiosa. Tra l'altro c'è questo bambino, molto tenero, sembra anche molto simpatico. Ci sono ovviamente le solite decorazioni natalizie, tipo dell'albero, insomma, carino. Allora, vediamo, vediamo, magari ci sarà qualcosa di carino che piacerà anche a me. Allora, combat dino, 2 combat dino più un combat card. Io adoro i dinosauri, perciò penso che mi piacerà. Allora, praticamente ci sono questi personaggini che sono elemental, combat dino e combat dino, e poi ci sono le card, insomma, sembrano molto carini. Carini non nel senso di carini, anche perché i dinosauri, insomma, carini nel senso che potranno essere, oh mamma, divertenti da usare. Allora, vediamo, allora, ho trovato questi due di cui uno è viola, wow, vediamo, basta. Sì, allora, allora, ne ho trovato uno di questi qua, elemental combat dino, sarebbe appunto questo, e poi uno di questi combat dino normali, eccoli appunto. In realtà sono carini, cioè, simpatici. Sono un po' morbidosi, specialmente questo, che è abbastanza morbidoso. E poi c'è questa carta, che, insomma, è una carta, e penso che si possa mettere così, in qualcosa del genere, però non vorrei distruggerla. Dai, insomma, è comunque molto carino, e penso che sarà divertente giocarci. Vediamo, poi ovviamente per i ragazzi lo sarà ancora di più. Cosa è? Minerax o Minerax? Perché, per esempio, Minecraft, che si scrive Minecraft, vabbè, insomma, non so come si pronunci. O Minerax o Minerax. Allora, sono questa specie di animali, questi, che sembrano però fatti di cristallo. Vedete, sono tipo personcine, un po' particolari, che hanno delle forme annali. Non li avevo mai sentiti, però sembrano carini. E sono in totale 16. Cioè, almeno dalle immagini sembrano simpatici. E in ogni bustina troviamo un Minerax o Minerax, più un, penso sia un booklet. Vabbè, insomma, vedremo. Comunque ci sono quattro specie di questi Minerax o Minerax che possiamo trovare. E, sinceramente, siccome vorrei trovarne o uno verno e uno rosso, visto che sono i miei colori preferiti. Ok, vediamo. Ah, ecco appunto, c'è il booklet. Dove ci spiega un po' la storia di questi Minerax o Minerax. Sì. E poi ce li mostra tutti, quindi teniamo sott'occhio la nostra lista. Vediamo. Sì, è capitato verde. Ed è... Questo, Beryl. Wow, sembra davvero fatto di cristallo, insomma, di qualche minerale particolare. Mi piace molto. Che carino. Non fa paura, comunque. Però è davvero simpatico. Cioè, mi piace e io non vorrei altri. Davvero. Vorrei trovare anche, per esempio, questi. Che sembrano bellissimi, insomma. Wow. Bellissimo. Che dire, però. Dai, sono comunque molto carini. Anche se sono più per ragazzi, almeno a me sono piaciuti specialmente questo, che è bellissimo. Comunque, adesso passiamo subito all'altra bustina. Che in questo caso è per lei, quindi per le ragazze. E c'è appunto questa bellissima bambina. Sempre con anni in interno, fantastiche sorprese. E il costo è sempre 2,50 euro. Direi di aprirla subito, perché è inutile soffermarci sulla bustina. Allora, vediamo. Partiamo da questo. Bellissimi! Sono delle anatre. Praticamente dovremmo trovare uno di questi ciondoletti, che sembrano carinissimi. Più 4 sticker. E dice che negli USA sono il numero uno. E ci credo. Sembrano bellissimi. Devo assolutamente aprire la bustina. Immediatamente. Allora, ragazzi. Ho aperto la bustina. Che carina! Allora, praticamente troviamo questo ciondoletto di queste party duck. Più 4 sticker carinissimi. E questo booklet dove ci mostra tutte le paperelle, tutte le party duck che possiamo trovare. E ce ne sono di 4 tipi. Punk, Jewel, Jewel sì, flags, quindi delle bandiere e twin. Io ho trovato appunto questo, che sarebbe Black Opal. Eccole, è molto carine. Come vedete è leggermente trasparente, adesso ve la faccio vedere meglio. Però queste sono molto carine, comunque. E se poi magari le troverò sfuse in edicola, penso che le acquisterò. Perché sembrano molto molto carine. Cioè, almeno a me così piacciono. Questa mi è piaciuta molto. E vorrei trovarle sfuse in edicola. Quindi al massimo le cercherò e vi farò sapere. Comunque, se voi sapete qualcosa, scrivetemelo nei commenti. Eccola qua la nostra paperelle. È molto, molto carina. Come vedete, è un pochino trasparente. Vedete, un pochino. Molto, molto tenera. Insomma, bellissimi, davvero. Ok, vediamo. Ovviamente dei bracciali. Almeno penso che siano questo. Non c'è nient'altro, no. Trendview. Che carini. Cioè, sembra... Allora, all'interno un braccialetto. Dieci lettere o numeri. Ah, quindi noi possiamo creare la nostra parola. Bellissimi. Forse non riuscirò a trovare tutte le lettere per scrivere Giulia. Però, insomma, scriverò qualcosa. Speriamo, almeno. Vediamo. Oh, che carino. Anche questi li vorrei trovare singoli perché sono, sembrano molto carini. Ci sono, appunto, le lettere. Ah, e volendo, noi possiamo scrivere una di queste parole più semplici che poi significheranno queste parole, cioè queste frasi. Allora, ragazzi, ecco, appunto, il braccialetto che è molto, molto carino. C'è scritto tat, che significherebbe, appunto, ti amo tanto. Non l'ho scritto io. Praticamente è arrivato così. E poi ci sono queste lettere. Non mi viene in mente niente da scrivere, seguendo queste frasi. Quindi, penso che poi vedrò da sola quando avrò un po' più di calma e tranquillità. Comunque, che dire, è tutto molto, molto carino sia per lui che per lei. Vi consiglio anche, magari, le bustine per l'altro genere. Perché, comunque, anche se questi sono per lui, a me piacciono molto. Specialmente questi perché sono troppo, troppo belli. Che dire, mi piacciono davvero tanto. Bene, adesso passiamo ai saluti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!